Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, mi trovo qui con il grande Schultz. Salve ragazzi, come va? Tutto bene? Questa bella giornata. Oggi sì, uscire una bella giornata, un saluto speciale. Siamo a Roma, si sentono i rumori. I rumori, insomma è passato adesso. Saluto tutti, mi raccomando ragazzi, tutto a posto, fate una buona Pasqua e poi ci vediamo presto. Grazie, grande Schultz, ciao. Ciao, ciao, ciao.